Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio. Ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati portando a conoscenza a quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la roccaforte di Proxima Polis, mi sono recato personalmente nel mercato cittadino dove mi è stato suggerito un gruppo di accessori che uniranno utilità e bellezza in un singolo prodotto. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia il Bundle Pokémon First Partner. La confezione di questo gruppo di accessori si presenterà minimale con il solo logo del franchise su sfondo pattern raffigurante i vari tipi di Pokémon sulla parte superiore gli starter delle prime otto generazioni riportati sulle parti frontali il nome della casa madre con il caratteristico pattern ad accompagnare ed unicamente quest'ultimo ai lati e le informazioni legali del caso su sfondo bianco di colore grigio chiaro nella parte inferiore. Una volta aperta la confezione, troverete le ombre degli starter presenti sul coperchio del prodotto, sempre riportate sulle parti frontali della scatola e dal suo interno a vostra disposizione saranno corredati un deck box di materiale plastico satinato con tratti a stampa lucida che evidenzieranno tutti i Pokémon iniziali presenti sull'accessorio, le energie colorate, il logo in primo piano del TCG e il nome della casa produttrice. Aprendo il deck box attraverso un sistema Snake, potrete trovare un divisore, anche in questo caso, con tratti a stampa lucida che tornerà utile per separare il vostro deck da altre carte che potranno tornarvi utili per battaglie future. Oltre al portamazzo saranno presenti anche 65 bustine protettive che proporranno nuovamente il pattern delle energie sulla parte dorsale e un semplice sfondo di colore grigio su quello frontale con copertura Glare ed un magnifico playmat standard, formato classico, con misure 61x35,6 mm, 2 mm di spessore con base in gomma antiscivolo che nella parte bassa raffigurerà ogni singolo starter appartenente alla rispettiva generazione, i loghi del gioco di carte collezionabili in alto a sinistra e quello della Ultra Pro in basso a destra e con sempre il pattern caratteristico di questo bundle a dominare lo sfondo. Ma non finisce qui perché oltre al Triss che tornerà utile a chiunque vorrà iniziare a giocare ad un TCG sfoggiando un bellissimo set di accessori, ci sarà un quarto elemento che svolgerà il suo lavoro più che adeguatamente contenendo massivamente tutte quelle carte che non verranno utilizzate nel vostro deck. La scatola stessa infatti potrà essere impiegata anche e soprattutto come storage di carte inutilizzate contenendone al suo interno fino a 700. Questo vi permetterà di risparmiare spazio avendo sempre a vostra disposizione un compartimento dedicato dove recuperare in modo agevole e semplice tutti gli elementi che potranno eventualmente tornarvi utili con l'evolversi del TCG al quale apparterrete. A mio parere questo bundle è uno dei più belli ed utili in circolazione al pari del Frozen della Ultimate Guard troverete il video dove ne ho parlato nella scheda appena apparsa in questo momento e sarà di certo uno dei punti di partenza più indicati soprattutto per tutti coloro che stanno iniziando ad avvicinarsi ora al magnifico e sconfinato universo dei giochi di carte collezionabili. In descrizione come sempre vi lascerò il link dove potrete recuperare la vostra copia personale così da sfoggiare nei local che vi vedranno protagonisti la bellezza di questo bundle. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!